bello a tutti raga oggi siamo in compagnia di ecco se il fratello di gioco oggi faremo un parkour joe avvialo l'invito ovviamente non si fa soltanto nei tre invitiamo anche gente ma è quello che hai creato tu si l'ho migliorato eh l'ho fatto anche eccitabile ok assolutamente un po' tutti arrivo no io arrivo perchè non ho 200 euro joe io non ho 200 euro eh io non ho più scelto quando va come ultimo se ne ho un milione no adesso li ho spesi per la tua fama però no 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 daniel sa già il cheat niente daniel scordato daniel puoi anche andare a te mi censura adesso arrivo a fare censura possiamo avviare il parkour no 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 sono ancora pochi sono ancora troppo va bene ecco i conti siete per adesso ho chiudi e riapri la ms la sessione già fatto sono mi meto 27 ma la raga mi meto tutti quei tuoi amici ho rimasto bella con un pozzo da mostrare oggi ho vinto 30 euro alle macchinette perchè robicet è livello 999 sport sarà moddato cioè normalmente è livello 10 mi faccio raga vi faccio fare la pantomodata la pantomodata la pantomodata si si è la invisibile figata la facciamola e facciamola ok raga cambio di programma non sarà più un parkour facciamo una pantomodata invisibile una ma io non l'ho io non ce l'ho la pantomodata dovrei comprare cambio di programma si ma si deve spendere no solo per comprare la pantomodata giusto no compri la pantomodata compri due cose 3 e quanto ci devo spendere levando la pantomodata ok ok allora la pantomodata sta sul leggendario motosport o show santo andreas no no ma io non ho soldi si che c'è un milione li ha spesi per la truffata ma io no ma io non ho soldi ma io non ho soldi ma io non ho soldi allora facciamo prima la la pantomodata e poi il parkour intanto è facile un parkour riguardo se funziona il clic e poi io la faccio fare mi trovo la pantomodata non trova la pantomodata rega mento veramente la pantomodata tu sei la pantomodata o allora tu avvia qualche parkour ehm tommy vuoi fare una casa mmm si uno bello però bo un montissimo lungo 12 km non 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 ропonodata ma è c'era Sì, sto entrando giocatori e te allora giochiamo i due volpini è molto... non so se c'è ma è a piedi o tipo in BMX macchine? a piedi è lungo lungo, molto allora noi sono le volpi a prima comandare no, scherzavo, non ho sbagliato allora fino a qua è figo fino alla mia faccia spiaccicata sulla rampa è figo qua qua equilibrio se il mio personaggio sale si è salito no, porca puttana ho fatto zigzag perchè devo salire di lato mi sono rincoglionito si è salito ok perchè sto tubo qui e poco non capirò perchè partirà il parkour guarda dove sono andrea no sono caduto sta caduto di cosa andrea andrea ti aspetto alla fine dell'equilibrio all'equilibrio però partiamo dopo che parte l'altro perchè se no poi ci spingiamo io qua mi scanto e porca puttana fallo prima tu mi scanto perchè c'è qui che poi se no faccio zig zag ah ma allora è facile no è facile però se il mio personaggio non si butta a sinistra ma poi cade da 2 cm come fa a morire quindi allora funziona è facile funziona perchè ce l'ho avuta ma anche moltiata però l'ho persa perchè ma è proprio invisibile ma è proprio invisibile non tutto completamente la parte del portiere e poi tutto individua io e dell'interno non si vede all'interno quindi si vede perché si vede che è invisibile ci si vede le tue gambe e il portiere si vede il resto non si vede il tutto non si vede il davanti non si vede il dietro non si vede e i lati non si vede a parte del portiere ma vabbè è bella così vabbè già anche una cosa invisibile è figa quindi poi tanta roba perchè adesso sicuramente ci saranno altre macchine invisibili però non so più che adesso questo qua è bellissimo che mi suona adesso vado per vedere se funziona vai da rendere no 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 l'inchia stavo cadendo l'aria qua vieni a modificarsi da pante oh ok vai vai prima tu qui è facile infatti se cado qui io tiro una bestemmiata proprio ok infatti non cado perchè troppo facile qui vado se cado qui tiro un'altra bestemmiata perchè questo si minchia minchia c'era il salto e non l'avevo visto stavo rimanendo trollato qui salta salta si ce l'ho fatta ok attento qua anche qua c'è un salto anche qua c'è un salto eh ah ecco hai capito perchè c'è il tubo adesso ah guarda dopo ci sarà un equilibrio lunghissimo vabbè ma sto tubo si può fare pure senza la furtiva la furtiva l'ho fatto con la furtiva mi siete presi con la furtiva oh oh minchia mi stavi facendo cadere perchè mi ero stato fermo puoi fare ultimo ah vabbè è lunghissimo ma è grosso cioè è difficile cadere anche se io cado perchè poi mi piglio dal panico e cado però dettagli no scherzavo tipo ora mi piglio dal panico all'ultimo e cado che lo provano vicino se non ci vuole oh andro sto arrivando vedo la luce tipo ora corro troppo veloce mi si leva la furtiva lo so l'ho visto si fa ti aspetto alla fine degli autobus ma ti sto aspettando minchia aspetta qui salto ok ti sto aspettando minchia ancora c'è un bordello no vabbè non proprio tantissimo però aspetta e ti rivelo per vedere dove sei che non ok 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 posso andare andare vai 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 che se no qui ci annoiamo non ci dirà è troppo lungo però vero si però lungo ma facile ho il singhiozzo che mi sta rompendo il cazzo il singhiozzo ancora laggo no 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 scusa minchia andavo troppo veloce e stavo calento vabbè è lungo ma non tanto difficile che palle il singhiozzo che palle il singhiozzo c'è un tubo con le macchine c'è quello lo st